E ti è intorno alla fiera di San Bartolomeo, detta anche fiera delle cipolle, un'importante occasione per l'intera città. Sì, e soprattutto da quest'anno siamo partiti con la riqualificazione della fiera che quest'anno tocca gli spazi, quindi migliorata la viabilità in tutta la zona della Sassonia, la fiera parte sempre da Sassonia, ma dall'anfiteatro Rastat verso nord e quindi toccherà i parcheggi ad esempio del Pesce Azzurro, passerà in zona Porto per toccare quindi uno dei luoghi più suggestivi della nostra città ed arrivare in zona Lido, quindi due chilometri, duecento espositori con la location totalmente cambiata. Abbiamo deciso di attivare questa modifica anche per andare dietro anche le necessità degli operatori economici della nostra città, ma è chiaro che pian piano vogliamo migliorare la fiera anche dal punto di vista degli operatori presenti, della proposta commerciale, è chiaro che la fiera campionaria nasce tanti anni fa e oggi ha bisogno di essere aggiornata, ha bisogno di essere modificata. Intanto siamo partiti con un bellissimo progetto qualche anno fa che è la fiera franca dei bambini, che anche quest'anno ci sarà e da quest'anno, visto che non abbiamo realizzato i fuochi durante la festa del mare, ecco i fuochi avverranno sabato sera 26 agosto ore 23 dal solito molo di Ponente, quindi chi vuole può assistere al grande spettacolo pirotecnico della città sabato sera.